Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento un'edizione speciale del Liverpool per la stagione 21 e 22, della versione player o authentic, quella cioè indossata dai calciatori. Questa edizione speciale del Liverpool 2021-2022 è caratterizzata dai colori bianco e verde che si intrecciano tramite delle forme geometriche sfumate. Il risultato è estremamente interessante e piacevole. Stemmi e sponsor di colore nero sono termosaldati per dare il massimo comfort ai calciatori. Il collo è a giro collo, con un orlo di colore verde. Sull'oretto del collo c'è l'ormai abituale logo in memoria delle 96 vittime di Heilsbrough. La maglia è realizzata con tessuto in poliestere riciclato al 100%, realizzato da bottiglie di plastica riciclate. Ciò consente al kit di fornire le massime prestazioni riducendo l'impatto sull'ambiente. Questa maglia è veramente bella, nella mia classifica prende 4 stelle. Mi ci sono imbattuto quasi per caso, però è veramente ben riuscita. Peraltro di un'ottima manifattura, fatta veramente molto bene. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Ora se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Lasciatemi nei commenti qualche suggerimento per prossime recensioni, perché ormai le ho viste quasi tutte. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione Authentic o Player, quella cioè identica a quella dei calciatori. Quella è una taglia large della versione ad 2005.